Bisogna uscire dalle emergenze e avere una politica europea dell'immigrazione più strutturata, lo ha dichiarato il ministro italiano per l'integrazione Cecil Kieng a Bruxelles. Al vertice europeo della settimana prossima l'Italia chiederà più sossegno finanziario per il sistema europeo di controllo delle frontiere. Abbiamo comunque anche una rivisitazione dell'approccio di Frontex, rafforzare Frontex ma anche andare verso l'umanitario, quello che l'Italia ha cominciato a fare e chiede anche all'Europa. Il ministro ha partecipato ad un dibattito al Parlamento europeo sui centri di detenzione per i clandestini in Europa, una situazione che conosce bene Suor Eugenia che da dieci anni visita il centro di Ponte Galeria a Roma, progettato inizialmente per bravi soggiorni. Hanno solo un letto ma un posto squallidissimo, solo che prima quando si fermavano solo 30 giorni o 60 giorni era più tollerabile, anche quel far niente perché proprio non hanno la minima attività. Adesso si può prolungare fino ai 18 mesi, veramente è insopportabile perché quella è veramente una tortura psicologica, dove la persona diventa nessuno. Una direttiva europea consente di trattenere i clandestini fino a 18 mesi in questi centri, ma incoraggia soprattutto misure alternative per il rimpatrio possibilmente volontario.